non c'è bene oh 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 io ne provo a mettere un amore di video che se vuoi è devastante è devastante è devastante sono proprio sono proprio i due mari sono proprio i due mari sono proprio i due mari non c'è perché st half non ci hai hai nah lei e st non è col cazzo a te ahahah 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 il stress si cammini si cammini non stai nello che cosa ah no te li ha messato questa non la parola come ciò che figa ahahah 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 ahah ahahah l'arpa d'animo ma non non ahahah ahahah